Maria De Filippi stravolge tutto nella nuova edizione di Amici 2024, ecco la novità che riguarda i professori La scorsa edizione di Amici è stata un successone con la vittoria di Sara Toscano che durante quest'estate si sta esibendo su palchi molto importanti Anche gli altri finalisti si stanno dando da fare per inseguire il loro sogno di diventare ballerini e cantanti professionisti Si stanno già scaldando i motori per la prossima edizione, Maria De Filippi per Amici 2024 stravolge tutto e la novità riguarda i professori che hanno un ruolo assati importante nel programma dato che spronano i ragazzi a dare sempre il massimo con le loro assegnazioni e con i loro giudizi Amici 2024, chi ci sarà tra i professori.Nella scorsa edizione di Amici come professori cerno per il canto Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi mentre per la danza Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuello Ebbene, non tutti questi nomi saranno confermati per la prossima edizione del Talent Manca ancora un po' di tempo all'inizio di Amici 2024 ma è spuntato già il primo nome di un insegnante che ci sarà nella prossima edizione Si tratta di uno spoiler che è una conferma che è arrivata proprio dalla persona interessata Non è uno new entry dato che il pubblico è già stato abituato a vederla nel banco dei professori da qualche anno A rompere la suspense sui nomi degli insegnanti è stata proprio Lorella Cuccarini che ha confermato la sua partecipazione La showgirl che per il secondo anno consecutivo ha portato alla vittoria una sua allieva, prima Angelina Mango e poi Sara Toscano, ha risposto con naturalezza a chi le chiedeva se ci sarà nella prossima edizione di Amici confermando la sua presenza A chi le chiedeva se ci sarebbe stata, lei ha infatti risposto, tu che dici? Aggiungendo una faccina che per i fan non ha lasciato nessuna ombra di dubbio e tutti ovviamente sono entusiasti di ciò Si attendono altre conferme riguardo il destino di altri insegnanti Per il momento sembrerebbe incerta la partecipazione di Emanuello che potrebbe lasciare il programma per portare avanti altri progetti Si era vociferato che al suo posto sarebbe subentrata la ballerina professionista Elena D'Amario, già allieva di Amici diversi anni fa, ma ancora non ci sono conferme La stessa Veronica Peparini che ha già ricoperto il ruolo di insegnante negli scorsi anni ma che poi ha lasciato il programma per godersi la sua vita privata ed anche la gravidanza, ha risposto a chi le chiedeva se ci sarà ad Amici 2024, di non precludersi nulla